Oggi è stata la giornata contro il cyberbullismo, il Safer Internet Day 2014. La Polizia Postale e delle comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha organizzato workshop sul tema del cyberbullismo nelle scuole delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Venezia. E poi in tutta Europa ci sono state manifestazioni. Questa giornata è arrivata troppo tardi però per amnesia, la quattordicenne che si è lanciata nel vuoto da un'altezza di 30 metri dalla terra di un albergo abbandonato a Cittadella. Lei è una vittima del bullismo online. Era uno dei 60 milioni di iscritti di un social network con una formula che sembra pensata apposta per scatenare la cattiveria. Si chiama Ask.fm, è ignorata dagli adulti ma popolare tra gli adolescenti. È basato sul meccanismo della domanda e risposta e c'è una casella che consente di porre domande in modo anonimo. In soldoni non ci si conosce. È così che amnesia è stata invitata ad uccidersi dopo una serie di attacchi alla sua personalità. Ti atteggi ma non sei capace di fumare, sei grassa, ti autocompatisci, ammazzati. Il social network è stato più volte accusato di cyberbullismo. Come sempre, una buona educazione e una buona informazione a monte rende più forti, anche davanti ad uno strumento così crudele. E qui sta il punto. La polizia postale oggi ha incontrato 60.000 ragazzi, ma non basta.